Di Sabatino Milton. Milton Di Sabatino è il presidente del Consiglio Comunale di Teramo. Ci sono voluti ben cinque scrutini per garantire a Di Sabatino il ritorno sullo scranno più alto della sala consigliare terramana. Ma c'è voluta anche una pausa di oltre un quarto d'ora, dopo il quarto scrutinio, per trovare una soluzione all'interno di una maggioranza che, come annunciato, non aveva trovato la quadra a causa di polemiche interne. Polemiche che avevano preceduto la prima seduta del Consiglio Comunale riunita oggi pomeriggio che vedeva l'inizio del Brucchi Bis. Dopo i convenevoli diritto, infatti, si è capito che i malumori derivanti dalle scelte del sindaco e dei referenti della maggioranza che lo sostengono riguardo la composizione della giunta non sono finiti. Anzi, Brucchi ha provato a tenere tutti uniti usando anche il pugno duro e sembrerebbe che alla fine ci sia riuscito. In mattinata, prima della seduta consigliare, c'era stata l'assegnazione delle deleghe, assessorili e non sono mancate le sorprese. Nessuna novità per quello che riguarda il vice sindaco, la carica di Mirella Marchese, che mantiene le deleghe che aveva nella scorsa consigliatura, vale a dire personale, anagrafe, elettorale e quant'altro. Confermate anche le deleghe a Rudi Di Stefano, manutenzione verde pubblico, a Giorgio Di Giovan Giacomo, lavori pubblici e traffico e a Piero Romanelli, scuola. Cambia Mario Cozzi che all'urbanistica, mentre ai nuovi entrati sono andati ad Eva Guardiani il bilancio, a Francesca Lucantoni Cultura e Sport, a Valeria Misticoni il sociale e a Marco Tancredi Commercio e Agricoltura. Ma io credo che ci siano state un po' troppe polemiche che poi non interessano i cittadini terramani. Noi credo che, anzi non credo, noi abbiamo vinto le elezioni per la seconda volta a Teramo, direi per la terza volta considerando anche Gianni Chiodi questa classe politica. Questo è il segno più importante, cioè i cittadini terramani hanno premiato il nostro modo di fare, il nostro modo di lavorare e di questo va tenuto in considerazione. L'obiettivo è guardare l'interesse comune. Credo che siano deleghe ben assegnate, io perlomeno ci credo moltissimo. Alcune deleghe sono nel segno della continuità, altre sono nel segno del rinnovamento. A chi le dice l'accusa di che i nove assessori sono troppi, cosa risponde? Guardi, anche questo fa parte di una strumentalizzazione. Io credo che questa giunta dovrà essere giudicata magari tra un anno, se lavorerà bene, se sarà in grado di dare le risposte dalla presenza e dal tempo che dedicheranno all'amministrazione comunale. Grazie a tutti.